Tra le variazioni di bilancio approvate ieri dall'ARS c'è il contributo straordinario alla città di Catania, ma ci sono anche i contributi ai comuni che fanno la differenziata, senza la prevista penalizzazione per chi non raggiunge il 65%, ma con, al contrario, un incentivo per chi la supera e c'è perfino la proroga di un anno per i percorsi di stabilizzazione dei precari nei comuni che non sono riusciti ad approvare per tempo i bilanci. La norma contenuta nelle variazioni di bilancio a sostegno dei dipendenti del comune di Catania e delle società partecipate è stata considerata da gran parte dell'Assemblea un provvedimento giusto e necessario. Si poteva fare di più anche per altre amministrazioni, ma intanto sono state approvate misure importanti a sostegno dei comuni siciliani in difficoltà finanziaria e dei loro dipendenti. Per il presidente della Commissione Antimafia, Claudio Fava, decurtare il fondo per i comuni capaci di superare la soglia del 65% di raccolta differenziata sarebbe stato un segnale pessimo. Bene, quindi la scelta è di ripristinare l'intera dotazione. Adesso questi fondi vanno erogati e finalizzati ad interventi specifici per l'ambiente. Grazie.